Ciao a tutti ragazzi qua Dexta Oggi sono qui con questo nuovo video su GT5 Online Oggi abbiamo delle nuove gare stunt Con le bati Ho preso la mia bati versione Versione stronzo ovviamente come al solito Ormai prendo sempre questa praticamente E andiamo subito Allora questa gara c'era scritto nel social Ragazzi club Che era praticamente impossibile Quindi non so come faremo però Cos'è? Un paletto buggato? No questo non l'ho mai visto Ragazzi i paletti quelli lì insuperabili Indistruttibili buggati Io non li ho mai visti Allora vediamo un po' Qui abbiamo che è un casino enorme Cerchiamo di inserirci Quello è caduto Piano 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 vai perfettissimo In questa parte ragazzi già ci siamo E ora però che devo fare? Devo andare veloce? Boh non lo so vai 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 Non mollare non mollare Non mollare non mollare Sali su dimmi che ci sono dimmi che ci sono Cadi bene No ho preso un paletto ragazzi Eh vabbè Eh vabbè Però Cioè guardate sto coso qui È proprio buggatissimo Andiamo Sì sì è buggatissimo È super buggato Ragazzi il checkpoint Fatemi capire Io devo entrare Mi sa Ma qui c'è un'altra via forse Io mi sa ragazzi Allora lì c'è una freccia Che dice di andare sotto Va bene va bene Allora sì devo fare quello che ho fatto prima Vai andiamo avanti Ci riproviamo No purtroppo sta zona è sinceramente un poco strana Cioè Troppo incasinata direi Allora andiamo piano E mi butto dentro Vai buttati dentro No perché Perché muore Comunque avrò sicuramente tanto da impazzire Perché c'era scritto che era impossibile Però se io tento una cosa estrema invece Se io vado ragazzi In quell'altra barriera Non sarebbe male Però come ci vado è difficilissimo Allora facciamo una cosa Impegniamo qui Vai Ok Atterra 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 Perfetto Ora Devo fare il giro e prendo il checkpoint Va bene E' abbastanza normale Solo che Arrivare Piano Mamma mia Perché c'è sto coso qua Che ora mi fa saltellare la moto Vai ci sono ragazzi Andiamo con super calma Vai 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 Piccola curva Perfetto No comunque queste gare ragazzi Sono estreme Perché ci sono troppi oggetti Tutto super incasinato All'inizio neanche capivo Come arrivare al checkpoint Neanche ero riuscito a capirlo Andiamo ora con calma qui Il problema è che appunto Se cadi Tipo ora Spero di non chiamarmi la caduta Comunque se cadi Ti devi rifare tutto Ed è una cosa che Veramente ti fa impazzire abbastanza Però sono vicinissimo al checkpoint Non posso cadere ora ragazzi Altrimenti sarebbe veramente assurdo Piano 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 Vai checkpoint preso Qui possiamo andare ormai con calma Il prossimo Mi sa che dobbiamo fare dei giri Comunque sono in terza posizione Ora Devo andare Credo qui Vabbè Ricompariamo Troppa Poca velocità Ragazzi Devo Insomma fare ora Dei saltellamenti Qui nelle ruote Che io chiamo ormai Ruote dei criceti Perché Perché sembrano le ruote Proprio dove corrono i criceti E qui Va bene Vai verso l'interno Verso l'interno L'ho preso Allora ricompariamo L'ho preso sicuro Sì ragazzi Ricompariamo direttamente Qui si prendono i checkpoint A caso Ok vai Sono in seconda posizione Ora Prendiamo anche questo E andiamo alla grande Mi sa che devo andare sopra Giusto così Spero di sì Dov'è il checkpoint Ah È lì È lì È lì È lì Ah ci sono ragazzi Forse lo prendo lo stesso Vediamo un po' Passa qui con calma Vai checkpoint preso Ora devo andare forse da questa parte Non lo so ragazzi Tento Niente Sono andato giù Ricompariamo Ah beh ho tentato Una via veloce Però penso sia Sia questa Sì sì Mi fa partire qui il checkpoint Allora io vado ragazzi Qui Vai con calma Ok perfetto Qui ci sono Giriamo adesso a sinistra Ma dov'è il primo Il primo ragazzi Praticamente è lì Lo devo andare a prendere subito Proprio immediatamente Gira Calma Ok vai 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 Con calma Con calma Ora scendo qui Ragazzi il primo è lì Lo sto così per prendere Lo sto così per prendere Ah sta tornando indietro Non mi dire Non mi dire che si deve poi tornare indietro Non è la via giusta? No È per forza No no È per forza quella giusta Ragazzi è per forza Quella giusta Al 100% Allora andiamo qui Quello non so Boh forse è caduto Non lo so Sta volando ragazzi Allora io mi sa che devo andare lì sopra Per prendere il checkpoint Quindi andiamo così Vai l'ho preso Ricompariamo Cioè sto prendendo Vabbè sono ricomparso Anche se poi c'ero Arrivato nella piattaforma Ragazzi sto prendendo i checkpoint Proprio Senza neanche prenderli Appunto È giusto così Li sto prendendo senza prenderli Allora Vediamo un po' Qui mi sa che devo fare dei salti Però Vediamo Impenna tutto Eh no Eh no Mi sa che Mi sa che devo saltare Io qui con La parte laterale No No Quello ce l'ha fatta Allora si può fare Vai impenna tutto Ok Troppo No no Vai ci sono ragazzi Ci sono Impenna tutto ora No non troppo Vai 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 Uh frena Mamma mia ce l'ho fatta ragazzi Checkpoint preso Vai sono in prima posizione Il primo alla fine è stato superato Lui è caduto credo Andiamo da questa parte Vai E qui c'è l'altro Comunque gara Veramente belle intense Non c'è dubbio Qui devo rifare la stessa zona di prima Giusto No 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 Non è giusto Non è giusto Penso sia questa Penso di sì ragazzi Devo fare tutto il giro Va bene Sì No credo di sì Perché altrimenti C'è immaginate uno che va lì Mamma mia Ci vuole veramente poco A sbagliare Cioè vi dico la verità Non è Non è intuitiva La gara Assolutamente no Allora Superiamo quest'altra parte Perfetto Ora qui io dovrei sgommare Come faccio però Retromarcia non posso Quindi Devo cercare ragazzi Di fare una curva Qui nell'impossibile Ok Ce l'ho fatta Superiamo ora ste gomme Però No no Perché Mamma mia Mamma mia Avete visto La batte è stata completamente buttata fuori Ora devo rifarmi questa parte Ma non c'è modo di volare al checkpoint No ragazzi non si può Perché poi La gomma ha Quelle cose laterali Che non ti fanno saltare bene Quindi Non conviene Non conviene Conviene andare qui E superare poi quelle altre gomme piccole Velocemente Nel Miglior modo possibile Anche se un moto In realtà non c'è Un po' Un po' a fortuna Un po' a fortuna Piano Ok qui ci sono Allora proviamo di nuovo a fare la sgommata Vai Sgomma tutto Sgomma 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 Ok Allora io ora vado un po' veloce Vai 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 Ok qui ci sono Non fare scherzi all'ultimo Per favore Ok 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 calma Ragazzi guardate l'altro giocatore Ragazzi il secondo È ritornato nella gomma È stato appunto Lui trollato Ha fatto quello ragazzi Che stavo per fare io Guardate un po' Niente è lì Niente sei stato fregato Caro mio Sei stato fregato Io invece ragazzi Ho scelto la via giù È giusta Sì sì è giusta È giusta Immaginate all'ultimo scoprire Che invece non è quella giusta Sarebbe clamoroso Comunque sia Sto ancora andando avanti In prima posizione Mamma mia che brutta parte Qui Vabbè questa si supera ragazzi È corta Fortunatamente è corta Vai sgomma tutto Ok Calma 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 Impenno un po' Ok questa parte è andata Ora qui cosa abbiamo Mi sa che devo fare tutto il giro Sì sì perfetto Perfetto Comunque un trial pesante Di quello proprio estremo Con l'abbati Ragazzi Trial estremo Di solito gioco delle situazioni Cioè gioco delle gare Con situazioni un po' Delle volte normali Nel senso scorrevoli Altre volte invece pieno di ostacoli Questa qui è continuamente piena di ostacoli E soprattutto ti confondi Ti confondi con le varie vie Che sono strane Piano Oh mamma mia vai Checkpoint preso Ora devo andare credo da questa parte Perché il checkpoint si trova sopra Quindi sicuramente è mezzo loop E lo prendiamo Vai Vai Dov'è 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 E' qui e' qui E' qui a terra A terra a terra A terra E' esploso tutto Checkpoint preso Si continua Siamo intanto quasi a 9 minuti di gara Vai piano Ok perfetto Bella questa parte qui Super incasinata ma Facile da superare Vai perfetto Andiamo 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 Veloce 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 E ora Cosa c'è qui Ok c'è l'altro checkpoint ragazzi E poi No no Questa è la parte peggiore Non mi dire Non mi dire Prendi il checkpoint Ragazzi devo fare questa curva Impossibile Curva Veramente impossibile Curva impossibile Perché questo Questo è proprio l'oggetto Forse più stretto Credo Per fare ste cose Mamma mia Vabbè ce la farò Ma non male che sono in prima Quindi pure se perdo Una vita intera Teoricamente dovrei rimanere Ragazzi in prima Teoricamente Poi non si sa Poi in realtà Non si sa Allora andiamo Qui ci vuole abbastanza concentrazione Questi sono i punti Ragazzi che Sinceramente Odio Cioè non è che odio Non è che provo un odio Però Sono quelli dove Cioè il mio punto debole Insomma Piano Qualcuno intanto Abbandonato Probabilmente si sarà Arreso quel giocatore Non lo so Calma 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 Vai 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 Dai che sta andando Discretamente bene Ok Il problema è che questa cosa qui Non è che è tutta dritta E quindi tu vai con calma No Fa una leggera curva Che logicamente devi Pian piano correggere E se non lo fai Te ne vai giù Quindi Piano 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 Vai 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 Dai che ci sono quasi ragazzi Mamma mia Calma 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 Non cadere Non cadere Non cadere Ok Rientriamo un poco Dai metà è stata Superata Senza dubbio Sto continuando Dai 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 Cioè forse sto perdendo Più tempo qui che In tutta la gara Ragazzi Piano Mamma mia L'ultima parte Dai ultima parte Super concentrazione Per l'ultima parte Ragazzi che Non si può sbagliare Non si può sbagliare Mamma mia Stavo per andare fuori La rotina Anteriore Dai 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 Rientra un poco Dai che è fatta Dai che è fatta Dai che ci siamo sicuro Dai che ci siamo sicuro Rientra un Poco Ragazzi Mi sa che è andata Piano Vai Ok Qui ci sono Ora devo andare io Nel checkpoint Ragazzi Ma vado piano Perché Immaginate Cadere adesso Io soprattutto Ho paura qui Magari Non so Ci sia un turbo Ho paura Se ci sia ragazzi Un turbo Sotto le ruote Che non vedi Boh Vabbè Andiamo Spero Spero di no Spero di no Prendiamo subito Il checkpoint Qui Vai Perfetto ragazzi Allora quanto manca Alla fine Mancano pochi checkpoint Ragazzi Quattro alla fine Allora Intanto Ok qualcuno è arrivato Mi sa lì nella curva Può essere No 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 Sono i giocatori sotto Ragazzi Che forse ancora Stanno provando La parte iniziale Penso di sì Perché lì c'è La parte iniziale Vero Sì sì ragazzi Guardate un po' Dove sono quelli Ancora all'inizio Mamma mia Poveri loro Perché Se hanno perso 12 minuti E ancora sono lì Chissà quando è Che finiranno la gara Veramente Poveri loro Allora Giriamo da questa parte Mamma mia Gira Oh Sgomma Ok Queste curve ragazzi Si fanno Vai 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 Ok qui possiamo andare Tranquillamente Dopo che ho superato Quella zona strettissima Qui ragazzi È tutto molto più Semplice Perfetto Ora devo prendere Quel checkpoint Vai piano E ragazzi Mi sa che Comunque le parti complicate Sono andate Sono state superate Penso proprio di sì Calma 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 mamma mia Stavo per voler fuori Vabbè che non era un problema Checkpoint preso Qui abbiamo l'altro Siamo ragazzi Veramente alla fine ormai Prendiamo anche quest'altro Ultimo è il traguardo Dov'è? Ah è dentro al tubo È dentro al tubo Ok devo cadere giù Vai Entra subito qui dentro Ok Prendiamo il checkpoint Va bene Ho fatto una discesa strana E il traguardo È lì sopra Ma Vabbè Dovrei salire senza problemi No? Sali No ragazzi Perché non va? No Perché non va? Non mi dire che questa è una gara mezza troll Aspettate un attimo Ricompariamo Non vorrei che ci sia una cosa Laterale Per arrivare al checkpoint Perché È un po' troppo strano Allora Devo cadere Io Cadi qui No ragazzi Non c'è nulla Perché quella parte poi è sbarrata E come faccio? Come faccio? Ragazzi Giustamente il tubo È tutto sbarrato Quindi L'unica soluzione È arrivare lì Con una super impennata Ma che sinceramente Non lo so Proviamo da questa parte Vai Impenna tutto Vai 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 che ce l'ho Vai No No ragazzi Non ha concluso Cioè io in questa gara Ho preso tutti i checkpoint Cioè non tutti Però quasi tutti ragazzi Senza neanche prenderli In realtà E ora il traguardo Non me lo prende Ma che senso ha? Che senso ha? Oh c'era una Boh vabbè Gara mezza buggata Andiamo a concludere ragazzi Velocità Velocità Vai bati Non mi deludere Non mi deludere Velocissima Ok Prima posizione Ragazzi Ce l'ho fatta È stato un trial Veramente complicato Perché tutte queste zone strette Da attraversare Ragazzi non sono per niente facili Però alla fine ce l'ho fatta Ragazzi Gli altri non so quando concluderanno Io vi saluto Gara veramente molto bella Leggermente sclerosa Qui è Dexta Lasciate un bel mi piace E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Grazie a tutti.